E adesso vi proponiamo l'intervista con Carles Sala, direttore di Barcelona Capital, nonché relatore dell'incontro di sabato. Carles Sala, direttore dell'Istituto dei Cultura dell'Aggiuntamento di Barcelona. Un incontro ampullante, si spalati di musica, di quello che la musica potrà creare per quanto riguarda il turismo e la promozione. Bé, sì, ho explicato una mica allò che passa a Barcelona e allò che intenta fare l'Ajuntamento di Barcelona perché segui passando, che è la importanza del sector musical a una città come la nostra. Espero che servei anche di esempio e di inspirazione a cose che si possono fare a l'Alguer, on teniu un paese fantastico e sicuramente seria molto facile ajuntare musica, paisaggio e turismo. Vostè ha parlato dell'allò che temanestà per fare queste cose. D'un caso, la col·laborazione tra privato e pubblico? Sì, tutto il che s'ha fatto a la città di Barcelona non s'entendria se non è des d'aquest punto di vista, che è la col·laborazione tra uns promotors privati e le gani del proprio Ajuntamento di poter-se posare al suo costato e fare-los più fàcil allò che fanno, soprattutto perché allò che fanno genera molta riquesa a la città. E anche posare al costato della gente, del pubblico e incluso dels studiants di musica, perché anche è molto importante, non solo i gli promotori e l'administrazione, ma che sia un pubblico che pugui realmente disfrutar allò che se'ls presenta. En Junto è il Sònar, uno dei dei più successi a Barcelona. Sì, ora abbiamo una buona attacata, perché la settimana che viene abbiamo il Primavera Sound, al cap di 15 dies abbiamo il Sònar, noi cominciamo con il nostro festival anche, il Festival Greco, di musica, teatre e dansa, cominciamo un festival al Palau de Pedralbes, anche di musica, e una buona concentrazione all'estiu, è un operà d'un festival all'altro. Festa della Solidarietà, sabato alla Scuola Fondazione Lavagna. Come ogni anno, alunni, insegnanti e genitori si sono impegnati nella preparazione e organizzazione di diverse attività allo scopo di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. La Scuola Fondazione Lavagna ha organizzato anche quest'anno la Festa della Solidarietà. Si tratta di un appuntamento che fa oramai parte della tradizione di questa istituzione scolastica. Una giornata all'insegna del divertimento e dello stare insieme, che coinvolge alunni, maestri e genitori nella sua preparazione e realizzazione con lo scopo principale di raccogliere fondi da destinare in beneficenza per diverse cause. Vengono infatti allestite e programmate numerose iniziative, tra le quali una lotteria con premi offerti da ditte e negozi della città, giochi e varie iniziative, tra cui rappresentazioni dei bambini della scuola, che si esibiscono in canti e danze, ma anche, come detto, organizzate dai genitori. Le mamme, ad esempio, hanno chiuso la serata con una sfilata molto apprezzata dei presenti. I bambini invece si sono divertiti prendendo parte ai vari giochi e attività organizzate all'aperto. Presenti anche lo stand per la pesca e vincita dei pesci rossi, l'angolo delle torte, quello dedicato al barbecue e l'angolo verde con la vendita di piantine. Insomma, una festa che unisce divertimento e condivisione alla solidarietà e che ogni anno vede sempre tanti partecipanti che contribuiscono alla riuscita della manifestazione. Ed ora diamo la linea alla regia, c'è la pubblicità tra poco.